Sono molto entusiasto per questa nuova stagione, comunque l'anno scorso è stato il primo anno in cui mi trovo nella categoria Serie D quindi all'inizio ho un po' faticato, poi pian piano ho preso ritmo e mi sono trovato molto bene sia con la squadra che con la società quindi decido di risposare il progetto e ce la metterò tutta per fare del mio meglio con questa maglia Che cosa ti aspetti proprio da questa esperienza qui in Eredo? Mi aspetto di fare un buon campionato, non mi sbilancio in che posizione però abbiamo un mister molto bravo quindi non può fare altro che insegnarci molte cose e migliorare la squadra al meglio Visto che un sacco di squadre si sono rinforzate quindi poi sappiamo che questo è un campionato duro Sicuramente il giorno d'andata sarà diverso dal giorno di ritorno come ogni anno però noi cerchiamo di fare punti subito perché la cosa che conta di più sono quelli poi Ecco per quello che riguarda invece il tuo apporto in questa nuova realtà, le tue prime impressioni in questi primi giorni di allenamento e di ritiro? No, mi sono trovato bene, il campo è messo anche bene, il mister ci sta facendo lavorare anche tanto è comunque un nuovo modo di vedere il calcio e sono contento perché sicuramente ci farà crescere Le tue prime parole per i diffusi di Eredo? Forza Eredo e speriamo di vincere